partita posso dire bruno che la prima copertina io quella ranocchietta l'adoro si è stata scelta per questo è stupendo perché l'ho riuscita a trovare penso l'ultimo libro che era il commercio si ne ho beccato uno dovrebbe arrivarmi in questi giorni bene sono contento perché me l'hanno chiesto in diversi ma non sono riuscito a procurarne una libreria sì l'unica possibilità appunto è di di trovarlo perso in qualche libreria tra le rese non fatte perché neanche l'editore ha più copia nei suoi depositi io ho esaurito le mie quelle che avevo e quindi non ogni tanto mi capita di incocciarne qualcuno perso in qualche libreria e magari riesco a contentare qualcuno me l'ha chiesto però diciamo che sei stata fortunata allora semplicemente con la ricerca su google l'ho beccato semplicemente così in realtà sì sì bene sono è andata bene direi e dunque buonasera a tutti buonasera a tutti ciao c'è qualcosa in chat forse non è non è essenziale e se quindi inizia la condivisione che forse ecco qua dovreste adesso io maggiore se vedere la schermata con le due copertine immagino perfetto e giusto per iniziare per scaldare un attimo l'atmosfera io andrei ecco vi faccio vedere un vecchio video un video del 2011 che preparai e utilizzavo nelle presentazioni del primo libro così magari avrete anche un modo di val di vedere di capire come sono cambiate le cose come e modi si è modificato l'anno mio il mio punto di vista sul sulle orchidee e sulla loro rappresentazione lo faccio andare dura un paio di minuti va bene perfetto eccomi qua aspetta che ciao a tutti ciao a lei meraviglia ciao bruno ci sta facendo vedere una carrellata delle fotografie del libro precedente non abbiamo ancora iniziato che bello buona carta ciao franca ciao 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 Grazie. Sì, è così piccolo? Sì, è così piccolo? Sì, è così piccolo. Ciao Daniela. Oh, l'Alessandro un po'. Si sarà liberato dal lavoro. Per chi si è collegato adesso, stiamo vedendo una carrellata di fotografie di Bruno del libro precedente. Sto iniziando lo schermo di Bruno, se è giusto? Sì, è giusto. Sto facendo, però dovrebbe esserci anche la voce. No, Marisa, è solo video. Ah, ecco. Allora non parlo. Mi si è scaricata la batteria e si è spento il computer. Ok. Adesso spengo l'audio. Caros. Chiare sono? E' 31, precisi. Ok, mi sentite? Sì, adesso sì. Perfetto. Purtroppo il video aveva un audio, ma a quanto ho capito non si sentiva. Mi dispiace. Vabbè, tranquillo. Tanto ci siamo ammaliati con le tue foto. Va bene. E' un video. Benvenuti a tutti quelli che ci sono connessi nel frattempo. Io li leggo giusto man mano Angela, Rosetta, Emanuela, Ignazio, Andrew, con Andrew, credo che ci siamo già sentiti. L'hanno preso, spero gli sia già arrivata, anche una copia del libro. Non so se mi sente. Mimma, Elena, Franca, Cristina, Silvia, anche Daniela ci siamo già sentiti sulla mail. Mi ha confermato di aver ricevuto la sua copia. Spero che vi sia piaciuto. Angelica. E salve anche ad Alessandro. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Bruno, di partecipare a un nostro evento. Puoi uscire dalla presentazione così vediamo un po' di gente. Intanto salutiamo, così diamo le istruzioni per il collegamento. Esco dalla presentazione. Questa è quella che dovrai fare o quella che... No, no, questa è quella che farò. Quella che farai. Allora lasciala pure, così allargo io un po'. Intanto già la gente vede la copertina di fatto del libro. E' ancora un po' prestino, lascerei qualche minuto, magari c'è qualche ritardatario. Bene. Siete tutti appassionati di coltivazione, immagino. Sì, per la maggior parte di tropicali, ma Francesca e molti di noi hanno anche la passione per le spontanee, e quindi come c'è occasione di vedere qualche spontanea, ci fiondiamo. Non so se ti ha trasmesso questo interesse. È vero, Francesca? Sì, è colpa mia. No, va bene. Cioè, anche giusto, è vero. Le associazioni generalmente da noi si occupano di coltivazione delle orchidee tropicali, ma alla fine siamo in Italia, abbiamo le orchidee anche in Italia, ed è giusto comunque sensibilizzare fortemente anche questo aspetto, perché alla fine ci aspettiamo sempre di vedere solo roba bella all'estero, ma abbiamo dei piccoli gioielli anche noi, e quindi è giusto farle conoscere. Sì, ci sono delle piante che potrebbe anche valer la pena di provare a far crescere in vivaio. Credo che per alcune di queste, diverse di queste, siano già stati fatti dei tentativi. Intanto, per esempio, la scarpetta nella Madonna, non la nostra, però specie molto simili, che credo vengano da altre zone, diciamo, temperate del globo, sono in commercio, io ho visto, le ho viste in qualche catalogo tempo fa. E credo che anche c'è una specie simile alla Branci Forti, che ugualmente ho visto proposta a levata in vivaio, che è una specie molto bella, fiori piccoli, ma molto attraente. In realtà abbiamo già qualche socio che coltiva l'italiano. Non è un problema semplice. No, però, allora, il problema grosso, secondo me, in Italia, che tendenzialmente tutti gli esperti, o comunque chi si occupa di orchide italiane, è sempre stato detto, non sono coltivabili per proteggerle. Non so se è un aspetto, perché in realtà si possono coltivare, io adesso ho iniziato anch'io qualcosa, ho delle serapia, se qualche offrisse anch'io qua a casa, secondo me dovrebbe essere fatto un discorso diverso, come si fa nel resto del mondo, nel dire, le riproduciamo in vitro, in modo da metterle in commercio a prezzi accettabili, insegnando a coltivarle, in questo modo è più facile andare a comprare a prezzo basso un'orchidea senza rischiare di essere ingambiato perché l'ho raccolta. Esatto. Quindi si può, perché, ad esempio, poi ci sono siti europei come Fitesia che le vendono. Sì. Le riproducono già, le vendono, quindi ci sono. In Inghilterra è già più comune, ad esempio. Sì, tempo fa avevo letto, ci sono, non mi ricordo, sia un istituto del CNR che se ne occupa del mantenimento in vivaio, quindi della riproduzione in vivaio di qualche specie mediterranea. Tempo fa me ne ero interessato, poi non si riesce a fare tutto, avevo un po' lasciato cadere il dimenticatoio, però sì, avevo osservato che c'era molto interesse al riguardo. Il problema, sì, è sempre quello di far fronte all'improvvisazione, all'ingenuità e all'imitazione, per cui il danno si fa quando la raccolta non serve a niente, è inutile, è solo distruttiva. Uno prende qualcosa, qualunque cosa sia, in natura, cerca di mantenerlo a casa, non ci riesce, però prima che fallisca, lo vedono gli amici, lo vede il vicino, allora anche loro pensano di poterlo fare. Questo crea, innesca, un meccanismo imitativo per cui c'è un prelievo di quell'entità, di quegli enti dal territorio, un prelievo che è destinato a fallire, perché mancano molto spesso le conoscenze, le competenze, c'è questo tipo di ingenuità, quindi non è che necessariamente il prelievo debba produrre l'estinzione. Però di fatto i prelievi e i fallimenti producono questo. Però sì, l'ideale sarebbe un allevamento in vivaio. Io ho lavorato per un po' nel dipartimento di acquacultura della nostra università, io ho lavorato all'Università di Sassari, e alcuni dei temi di ricerca che abbiamo portato avanti per un po' avevano a che fare con l'allevamento e la riproduzione di specie protette in acquario destinate all'acquariologia, come avviene in molti posti del mondo, per evitare che gli appassionati di acquari andassero a prenderselo in acqua, ecco, in mare, in acqua viva. Scusate se mi sono dilungato. No, no, anzi, sono proprio meccanismi che sono da evitare, sono proprio... Il nostro obiettivo è anche quello, è far capire certe cose, la ricchezza che abbiamo in natura e soprattutto la delicatezza di quell'ecosistema sulle orchidee soprattutto, che appunto essendo delicato va preservato e mantenuto. Allora, direi che ci siamo, sì. Benvenuti a tutti. Ciao Gabriella, Cristina, vi ho visto entrare dopo, saluto tutti, scusate se non cito tutti. Benvenuti a questa sera. Abbiamo il collegamento Bruno Manunza che ringraziamo ancora per la partecipazione. Ci presenterà il suo libro. Diciamo dove lo possiamo trovare, Bruno. Allora, il libro ha una diffusione limitata nelle librerie italiane. Questo per il modo in cui è stato prodotto e anche per il modo in cui nasce, che dirò tra poco. Per cui può essere trovato in qualche libreria della Sardegna oppure lo richiedete a me e lo potete ricevere in breve tempo. Con una considerazione. Il prezzo di copertina è di 50 euro. Era un prezzo, diciamo, obbligato per... che la produzione ha comportato la necessità di uno sponsor di cui ha acquisito un certo numero di copie a un determinato prezzo. Per cui non è possibile venderlo a un prezzo diverso attraverso i canali normali, attraverso le librerie o anche attraverso Amazon e i consueti rivenditori. Ho tenuto per me un certo numero di copie che ho offerto in promozione nel periodo scorso, nel periodo dell'uscita e che offro in promozione a voi in questa circostanza con uno sconto del 50%, quindi 25 euro. Più l'eventuale costo di spedizione che si aggira intorno ai 4 euro e qualcosa, 4 euro e 70, mi sembra che siano. Poi nel dettaglio, alla fine, che vedremo come... Però questo è, diciamo, il modo in cui può essere ottenuto l'oggetto in sé. Come diversi voi, ho visto che sono già riusciti a fare. Sì, alcuni l'hanno già ordinato, e ricordiamoci Francesca per la biblioteca, così lo inseriamo... Dovresti averlo già... Ah, giusto, è giusto, è vero. L'abbiamo già ordinato. Ok, perfetto. Sì, sì, l'ho. Scusate, ma abbiamo la consegna da Francesca, quindi non l'ho inserito già in biblioteca come preferenza. Appena arrivi... Appena ci vediamo lo rimpingo. Allora, benvenuti a tutti, sono presenti alla O, sono Gianni, mi conoscete tutti, mi presento per i nuovi soci e gli intervenuti non soci che fanno parte di altre associazioni o del Comune di Rainate, cittadini, perché iniziamo quest'anno anche la collaborazione con il Comune e offriamo i nostri servizi ai cittadini del Comune di Rainate a fronte appunto della Convenzione. Chiedo a tutti di disattivare i microfoni in modo che la registrazione non abbia rumori di sottofondo, di inserire pure le domande che volete fare a Bruno in chat, a fine della sua presentazione le mostreremo a Bruno e le scorreremo per le risposte. Se avete necessità, scriveteci pure in chat e mi taccio, così lascio la parola appunto a Bruno e alle sue splendide foto. Ricordo che Bruno è un famoso ricercatore, ma è famoso anche per la parte fotografica, quindi sono tutte fotografie sue meravigliose, quindi allargate lo schermo e sgranate gli occhi. Benvenuti a tutti, grazie Bruno, prego. Ti ringrazio, io ringrazio te, ringrazio voi tutti per la... è Nutella quella che stai mangiando, sì? Chi? Sì, sì, penso di sì. Va bene, complimenti. La presentazione, diciamo, antepongo, vi uso qualche parola. Il libro nasce come risposta a una richiesta di alcuni miei corsisti. Io mi occupo di fotografia, di natura, di scienza e di diverse altre cose, in quello che non saprei definire il tempo libero o il tempo lavorativo. Però, di fatto, sono nato e sono cresciuto in una cittadina che è un capologo di provincia, nel nord Sardegna, che è Sassari. qui mio nonno e mio padre avevano una piccola bottega di fotografi. Erano i tempi in cui i fotografi giravano per i vicoli della città vecchia e come allora girava la rotina e chiamava per il suo servizio, spesso il fotografo girava per i vicoli dicendo è arrivato il fotografo, la gente si affacciava, chi diceva salga, salga, è morto un nonno, stanotte non abbiamo una foto oppure venga che facciamo la foto al bambino e erano quei tempi. Sono cresciuto in questo ambiente fotografico e quindi in questo la mia passione della fotografia si è alimentata. Mia madre e mia zia invece avevano la passione per i fiori, la natura, l'acqua, mia madre e mia zia credo che siamo state le prime pescatrici subacquee della Sardegna, andavano in giro negli anni 50 con i fuciloni cresci a molla alti più di loro e io mi imparato a nuotare in quel modo, mi buttarono dal molo di Porto Torres, il nostro porto principale, quando è in quelle circostanze imparare a nuotare, puoi usare la maschera e durante la mia infanzia e adolescenza quando finiva il periodo del mare si andava e prima che iniziasse si andava in campagna nei boschi e lì io mi appassionerei le orchidee. Le mie foto di orchidee risalgono proprio a quegli anni, agli anni 60, alla fine degli anni 60. e la vita mi ha portato a fare anche altre cose, per cui mi sono laureato in chimica, ho lavorato e sono ricercatore dell'Università di Sassi nel Dipartimento di Agraria, ho ottenuto corsi di diverso tipo, biochimica, matematica, fotografia e mi sono occupato di molti argomenti. Tengo anche corsi di fotografia, li tengo per i miei studenti all'università e li tengo anche per esterni. Molti di questi sono corsi che tengo all'aperto. Uno, il primo che misi in cantiere tanti anni fa era un corso che guidava nella ricerca delle specie di orchidee nella Sardegna. È un corso che è sempre piaciuto, ha tratto sulla base di idee sullo scheletto, di questo corso. Io feci il mio primo libro, ho scritto il mio primo libro sulle orchidee che si intitolava Senoricas, Orchidee di Sardegna. Senoricas è un termine che si usa in Sardegna per assonanza signorina, possiamo tradurlo. Sta a indicare un particolare portamento a senoricato, si dice, altero, elegante, fiero, che hanno soprattutto le orchidee delle offris. E in alcuni borghi della Sardegna, in alcune zone dell'interno, è il termine che si usa. E quello fu il titolo del libro. Libro che ormai è difficilissimo da trovare e l'anno passato un mio corsista che faticava a trovare, non riusciva a trovarlo, mi dice, ma non si può rifare. E ho rimasto un attimo perplesso perché non ci avevo neanche pensato. Poi alla fine valutai le varie possibilità e misi in cantiere la produzione di un secondo libro sulle orchidee. non mi piace rifare le stesse cose. Così decisi di dare un'altra impronta, un'impronta diversa al libro. Intanto ho inserito in questo come struttura portante quello che per me è una sorta di recupero del passato, di ricordo del passato. Sono il libro, le immagini sono accompagnate nelle pagine dalle descrizioni di tre studiosi che sono Terracciano, Macchiati e Binna che alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento vennero in Sardegna a occupare la cattedra di Bottanica e l'Università di Sassari e cominciarono i primi studi monotematici diciamo approfonditi sulle specie di orchidee della Sardegna. Nel libro riporto, nelle pagine del libro riporto quelle che sono le introduzioni di questi studi e soprattutto in alcuni casi diciamo che emerge una situazione di quasi divertente, di difficoltà di queste persone, di queste figure. ecco, vi leggo giusto le prime righe del testo di Macchiati, vedete c'è il libro Regia Biblioteca Universitaria di Sassari. Dice desiderando fare un lavoro il più possibile completo sulle orchidee della Sardegna ho dedicato parecchi mesi allo studio di questa interessante famiglia di piante fanerogame, ma non avendo potuto raccogliere tutti i dati bibliografici e dice perché qui mi trovo come in un deserto, ne posso disporre di altri libri fuori dai miei, trovo conveniente ritardare la pubblicazione fino a quando potrò consultare i libri di qualche biblioteca botanica del continente. Erano dei pionieri, si trovarono a lavorare in una situazione di partenza da zero, di non dico di vuoto ma quasi e la cosa affascinata è che loro esplorano le regioni, i boschi che oggi non esistono più, le campagne completamente modificate intorno alle città principali e verso il centro dell'isola e le pagine del libro, le foto, sono accompagnate con quelle che sono le loro descrizioni, con il riferimento bibliografico e ci raccontano di luoghi che oggi non esistono quasi più o che sono talmente cambiati. Questo per me è stato importante perché mi ha consentito di ripescare, di salvare una memoria che altrimenti va perduta, una memoria di nomi, di posti che sono talmente trasformati che non è rimasta più traccia. Mentre ritengo che sia interessante e oggi sapere cosa c'era dove ormai c'è un viadotto o dove la natura è stata completamente alterata, giusto per mantenere una memoria, la memoria è importante. Le foto quindi sono accompagnate da questa percorso e c'è un altro elemento. Nella impostare il libro ho deciso a differenza del precedente Senoricas che dava molto spazio agli primi piani, alle immagini ravvicinate, quindi all'espressione, un ritratto molto ravvicinato, ho deciso di dare più importanza a quella che è la personalità della singola pianta, del fiore, e quindi di concentrarmi sulla pianta intera, sul portamento, sulle sue caratteristiche, su alcune emergenze particolari che vengono fuori in determinate situazioni e per questo motivo un titolo accompagna la foto e il nome un titolo che in questo caso è solitudini giusto per rendere il senso di quell'immagine, il racconto di quell'immagine. In alcuni casi la parte testuale riprende quella che è stata la prima segnalazione di alcune piante per la Sardegna, in questo caso questa è una purpurea che fu trovata in Sardegna soltanto nel 1970 e in corsivo in questo caso riprendo cito la pubblicazione che la riprende, un estratto ovviamente del lavoro. C'è un'altra considerazione che un'altra scelta che ho fatto, una scelta grafica nel libro. Tutte le foto hanno un bordo che vuole richiamare quello che è normalmente il bordo della lastra fotografica, proprio per sottolineare che al di là di quello che è il racconto, il documento, dietro c'è una scelta fotografica, c'è una ricerca fotografica ed è come una serie che vuole quasi essere una serie di racconti, di ritratti di famiglia estratti da un vecchio album di fotografie. Dietro ogni foto, mi è sembrato di capire, Francesca diceva che non tutti voi siete diciamo degli abili o dei provetti fotografi, forse più o meno tutti ci proverete, non è difficile trattenersi dal tentare di fermare da qualche parte in una memoria che un tempo era di celluloide e oggi è fatta di silicio quello che ci è piaciuto, quello che ci ha colpito, quello che è rimasto davanti agli occhi. Il lavoro ovviamente fatto è un lavoro che da una parte è di scelta di ricerca e dall'altra richiesto del lavoro successivo come si faceva prima in camera oscura in camera chiara. Un lavoro che mi ha portato anche a scegliere e a immaginare e a prevedere il futuro spesso nei miei corsi dico che la nostra capacità la salvezza degli animali è la capacità di prevedere il futuro di capire cosa succederà di lì a poco come saranno le cose di lì a poco per cui in qualche caso questo è uno degli esempi vedere la pianta sul bordo del lago cresciuta quasi in una spaccatura nella roccia ha portato a prevedere come avrebbe potuto essere la foto qualche ora dopo al trascorso l'imbrunire al comparire delle prime stelle c'è un lavoro diciamo di di previsione di prefigurazione di quella che dovrà essere la fotografia e naturalmente in qualche caso non ci basta il dispositivo la fotocamera non ci bastano le dimensioni del mirino del display della fotocamera per capire come stanno venendo le foto e quindi molto spesso ho lavorato in campo con l'aiuto di un portatile collegato alla fotocamera per poter avere a disposizione immagini più grandi meglio leggibili più comprensibili per rendermi meglio conto di che cosa stava realmente succedendo nella realizzazione della fotografia e la capacità di prevedere sta anche nel fatto che una volta che noi vediamo la pianta possiamo desiderare anche già di capire come potrà essere dentro dentro i nostri luoghi nelle nostre radure negli angoli di bosco c'è sempre un milione di cose questo milione di cose che sono rami che sono alberi noi abbiamo bisogno di selezionare di scegliere il lavoro del fotografo è diverso da quello del pittore il pittore ha un vantaggio rispetto al fotografo che è quello di guardare il mondo e mettere soltanto quello che vuole lui può inserire le cose che desidera e riempie la tela quando ritiene di averne avuta sufficienza smette di riempire il fotografo lavora diversamente il fotografo deve lavorare mentre il fotografo mentre il pittore lavora riempiendo il fotografo deve lavorare togliendo cioè si trova avanti un mondo che è estremamente complesso articolato ricco denso di situazioni di dettagli e di cose e su questo mondo deve imporre un ordine una ragione facendo sì che il suo lettore il suo osservatore si si concentri sul bersaglio che lui ha scelto qui sono a confronto due due immagini un gruppo orchidee di un gruppo di di offris che mi aveva colpito il nostro occhio la vede come le vedeva il telefono come le vedeva il telefono però la nostra l'occhio fotografico vede quello che c'è a destra vede come sarà la foto come dovrà essere per poter essere così per poter lavorare e ottenere questo risultato noi fotografò a disposizione alcune scelte fondamentali che riguardano la luce il momento l'ora del giorno è la scelta delle ottiche la scelta dell'obiettivo eventualmente può eliminare qualche elemento di disturbo che può essere un ramo o qualcosa ma non è che faccia necessariamente grandi trasformazioni però le scelte tecniche sono quelle che cambiano il mondo da quello che vede che si si imprime sulla retina a quello che invece viene registrato sul sensore e alla fine poi sul file che verrà conservato e verrà utilizzato per la stampa le scelte sono scelte che hanno a che fare con i tempi i diaframmi i valori degli obiettivi e che cambiano il mondo lo cambiano in maniera sensibile questo produce alla fine il risultato che il fotografo cerca cerca di ottenere voi arrivate e vedete questo ma il vostro mestiere la vostra abilità il vostro scopo è non di vedere quello che c'è a sinistra ma di vedere quello che è a destra cioè quella che vedere il mondo fotograficamente con piccole variazioni di punti di vista con una scelta di un obiettivo piuttosto che di un altro di una di un'ora di un controluce piuttosto che di una luce diretta e così via questo è l'obiettivo che io mi ero posto nella realizzazione di questo volume e soprattutto ho mirato alla ricerca della pianta della pianta nella sua completezza della diciamo delle caratteristiche dell'individuo o degli individui le scelte tecniche poi mi hanno portato a una realizzazione di immagini che sono risultate forse anche un pochino elaborate ogni immagine quasi tutte le immagini sono costruite come se fossero dei panorami questo ha permesso di ottenere dei file con moltissimi pixel di grandi dimensioni quindi con un grandissimo dettaglio allo stesso tempo mi ha permesso di lavorare con una focale lunga quindi con un teleobiettivo come se avessi in mano un grandangolo e quindi di avere un campo di visione molto ampio malgrado usassi un'ottica che al contrario viceversa ne aveva uno piuttosto stretto questi sono quindi alcuni degli esempi che illustrano il modo in cui ho proceduto per riuscire a sintetizzare a ordinare quel mondo che avevo davanti un mondo complesso denso ricco di elementi di corteccia di muschio di foglie morte di cose di piante ovviamente e renderlo leggibile arrivando a una sintesi anche estrema che nella complessità di questo universo rendesse evidenti soltanto quelle che erano le caratteristiche che avevo in mente che mi interessava raccontare nel corpo questo è quello che poi finisce nel libro il punto di partenza e l'immagine finale spero di essere riuscito a chiarire quello che il mio l'obiettivo che mi che mi ero posto e che avevo in mente se qui appunto vedete come potete fare per ottenere la vostra copia se volete se siete interessati a una copia del volume e a questo punto se avete qualche domanda qualche curiosità sarò lieto di rispondere e di chiarire ulteriormente le le cose che ho detto grazie di nuovo a tutti per essere stati qui con me grazie a te Bruno presentazione appunto immaginavamo che ci fosse tanto lavoro dietro ogni foto ma c'è aperto un mondo prego a tutti se qualcuno è interessato poi magari posso anche mostrare nel dettaglio qualche fase qualche fase sarebbe proprio interessante perché c'è proprio qualcuno interessato alla parte fotografica della lavorazione della post produzione quindi dal software a quanti passaggi ci sono se vuoi sì vediamo un attimo vedo scorro nella chat le le domande che sono state fatte allora Angela una mail per ordinarlo la vedi qua scritta se qualcuno di voi cerca Bruno Manunza su Facebook diciamo dovrebbe trovarmi senza troppe difficoltà poi sì ho inserito anche il link di Facebook della tua pagina nell'invito che abbiamo mandato a tutti con le credenziali d'accesso quindi ricordo a tutti che se si perdono anche questa mail che poi adesso scriviamo in chat hanno il link nella convocazione di questa sera sì dunque Elena mi sembra per il momento mi sembra l'unica domanda che che leggo se non sbaglio sì sì per adesso è l'unica Elena sì oltre a quella della mail ok salve Elena forse ci ci siamo già sentiti su sì ho il libro anzi ne ho presi parecchi di libri è vero sì salve mi ha incuriosito perché faccio parte anche di un circolo fotografico capire insomma che c'è dietro un grosso lavoro dietro ognuna di queste foto di post produzione anche sì allora da una parte c'è un grosso lavoro nel fatto che bisogna viaggiare girare in lungo in largo le strade della Sardegna non sono tutte agevoli spesso 50 km in linea d'aria possono significarne 200 su strada tra l'altro vedo che Giada mi sembra che sia pratica della della questione decisamente e tra l'altro in linea d'aria neanche in piano quindi in su e in giù la gente spesso dice pone due problemi due questioni su quella che è l'uso della post produzione da una parte dice ma allora ci vuole sempre perché è una diciamo è una un'affermazione che io faccio e poi dice ma la foto non è vera allora dividiamola la cosa proviamo a vedere se riusciamo ad aprire il discorso e dividiamola la cosa in due in due termini Elena la tua perplessità o comunque la tua curiosità è legata a un timore che si perda la realtà la verità della foto o semplicemente al lavoro alla quantità di lavoro necessaria la tecnica che si deve avere beh ero curiosa di capire come viene realizzato cioè con che software e sia anche con quanto tempo magari sulla ricerca dell'orchidee sicuramente conosco bene la Sardegna so che si trovano nelle stradine più sperdute il solito dove manda il navigatore per sbaglio è un buon posto dove trovarle esatto sì per quanto riguarda la fase della post produzione molto dipende dall'obiettivo che ci si pone diciamo questo che se noi abbiamo più o meno in testa quello che è il nostro obiettivo cioè il modo in cui dovrà essere quello che dovrà essere l'aspetto finale della foto la finitura finale ultima della foto una parte consistente la dovremmo fare in ripresa cioè è meglio mettersi nella condizione di regolare in post produzione diciamo le cose che non possono essere sistemate in ripresa quindi non deve servire a correggere gli errori della ripresa o le eventuali perfezioni deve servire per fare tutto quello che in ripresa non è possibile ottenere non è possibile fare quindi ce ne può molta o poca dipende dalle situazioni però ci vuole sempre ci vuole sempre perché niente è in realtà mai come lo vediamo nella nostra testa quindi è sempre necessario fare un intervento non mi dilungo troppo però un paio di aneddoti che ci sposano dal mondo delle orchidee dal mondo della bellezza al mondo degli umani federico scianna che è uno dei fotografi italiani di riferimento nel panorama della foto di reportage della cronaca della moda del bianconero soprattutto quindi uno dei nostri più citati fotografi in un suo libro recente mi sembra di sintetarsi lo specchio segreto che aveva a che fare con lo specchio raccontava lui è un fotografo di Napoli che la nonna diceva considerava come il fotografo migliore di Portici fosse il fotografo che non le faceva vedere il porro nella foto quindi il fotografo che in qualche maniera riusciva a correggere le eventuali imperfezioni io ricordo da bambino che nel studio fotografico di mio nonno c'era un signore era un ragazzo io ero piccolo quindi lo vedevo come un signore che passava le giornate davanti a una sorta di visore con una lampadina dietro e un vetro smerigliato su cui attaccava le negative i negativi delle fototessere e sulle quali con matita grassa china pennellini e così via ritoccava tutto quello che rughe difetti imperfezioni tutto quello che il soggetto riteneva dovesse essere o avrebbe ritenuto dovesse essere sistemato e corretto quindi diciamo la postproduzione esistesse è sempre esistita e necessaria per risolvere determinati problemi e anche perché attraverso la postproduzione non riusciamo a dare evidenza ai dettagli che ci interessa e sottrarla invece a quelli che non vogliamo la differenza tra ecco la differenza tra queste due immagini fondamentalmente sta da una parte nella ripresa nelle scelte di ripresa e poi attraverso la postproduzione io ho deciso di dare una migliore impronta di nitidezza sul su un fiore su una pianta e minore diciamo sul tralasciando il resto delle immagini sempre le vedete sì sempre questo proposito nella fase di postproduzione entra la realizzazione della della cornice che è un altro elemento descrittivo che viene utilizzato per creare una suggestione per dare una sensazione giusto per Elena vediamo un po' se riesco a farti vedere cosa c'è dietro una di queste vediamo un attimo prendo vuoi cambiare condivisione Bruno no non ho bisogno mi è sufficiente vediamo un po' farlo da qua sarà contenta Francesca di vedere che una fotografia è 200 mega anche anche di più anche di più molto di più non esageriamo vediamo un po' se riesco a tirare fuori un giusto una di queste questa può andare bene vediamo è un gruppo di di offri sapifera che ho visto nascere le ho viste dalle dalle rosette basali e ho visto con piacere che spuntavano una attaccata all'altra una vicina all'altra e quindi diventava e si sviluppava nella mia testa la possibilità di avere un bel gruppo di famiglia tra l'altro crescevano lungo una linea lungo tutte su un piano più o meno parallelo quindi questo ha reso esattamente ha reso possibile avere la migliore profondità di campo Elena io uso photoshop fondamentalmente tu che cosa usi qual era la tua domanda no io non uso niente perché sono ancora agli inizi della post produzione perché tendo a preferire per me stessa la fotorealistica io questa la vedo più come un'opera d'arte proprio e però scusa se te lo dico bellissima non vorrei è realistica sì 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 cioè non è che non è realistica non ha niente che non sia realistico perché man mano che tu ti avvicini e metti la punta del naso vicino ai fiori il tuo cristallino proietta sulla retina un'immagine nitida e a fuoco soltanto dei fiori che hai lì davanti però noi abbiamo un refresh continuo del mondo che nasce dall'esigenza di salvarci la vita cioè di renderci conto del fatto che lì davanti da questa confusione possa emergere la tigre con i denti a sciabola per cui il nostro cervello attiva anche una serie di opzioni di focheggiatura che forzano il cristallino a non perdere completamente l'attenzione in realtà l'immagine realistica è questa in cui tu metti a fuoco soltanto la parte che ti interessa il nostro cervello alterna immagini a fuoco di questo del primo piano ed ha la percezione che in realtà il mondo si fiat a fuoco se noi ci fermiamo a riflettere ci rendiamo conto che sì le cose non sono sempre a fuoco però in realtà non sapremmo dire quando non sono a fuoco perché voi adesso siete seduti io sono seduto davanti ai miei tavoli di lavoro alle mie spalle c'è una libreria davanti ce n'è un'altra se io guardo il mio monitor io ho la ho la sensazione anzi ho la consapevolezza che è a fuoco soltanto il mio monitor i libri dietro a tre metri di distanza non possono essere a fuoco non lo so però il mio cervello mi restituisce a fuoco è sufficiente che i miei occhi oscilli che la mia pupilla faccia un piccolo movimento io vedo a fuoco tutto e in quel breve istante in cui la pupilla scorre dal punto che ho davanti al punto che ho dietro ho la sensazione che sia tutto a fuoco il mondo reale in realtà non è tutto a fuoco per cui la domanda la mia non vuole essere una domanda insinuante non voglio convincerti della è questa nella tua sensazione nella tua desiderio di come si può dire di realisticità qual è il racconto che vuoi fare nei miei corsi io non faccio solo corsi di fotografia delle orchidee io faccio corsi di fotografia da vari livelli dal tecniche di base al linguaggio alla diciamo a tecniche anche un po' specialistiche è una delle cose che chiedo ai miei studenti di promettere di giurare anzi quando iniziamo un corso è questa di dimenticarsi che esistono la parola bella e la parola giusta o sbagliata in fotografia quando discutiamo una fotografia valutiamo una fotografia il problema che dovremmo porci la domanda che dovremmo farci è sempre questa foto perché è stata fatta cioè cosa deve raccontare se questa foto deve raccontare come è fatta l'office a piffera qual è il suo portamento come sono o si presentano in nel loro microcosmo allora diciamo che questa foto è efficace elimina dall'attenzione degli osservatori tutto il superfluo estraendo quello che possiamo chiamare l'essenza dell'epifericità se mi soffermo sulla foto qua a sinistra io non posso dire che ottengo lo stesso risultato perché in questo mondo sono presenti talmente tante cose dal muretto a secco dietro un albero con la sua corteccia il muschio provi foglie sterpi questa è senz'altro una foto molto veridica ma indiscutibilmente è una foto che racconta altre storie quindi il problema della della in fotografia è non è tanto cosa è vero e cosa è falso quanto piuttosto cosa stiamo raccontando cioè cosa vogliamo dire perché le foto sono tutte bugiare non c'è una foto che sia vera le foto sono tutte un cumulo di menzogne noi dobbiamo scegliere di decidere qual è la nostra più bella bugia questo lo dicevo già anche in Senoricas nel primo c'è una frase che viene citata da Piero Mannironi nel mio primo libro e dice questo l'arte è verità è bugia liberata dalla necessità di essere verità cioè sono tutte bugie ma almeno alcune non hanno più il presupposto di dover essere vere a tutti i costi semplicemente raccontano certe cose anziché raccontarne altre questo è la 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 diciamo che tra le due veridicità Elena qual è più funzionale al discorso che io avevo in mente perché se io devo dire guardate se dovete andare a cercare la cefalantera a longifoglia dovete cercare un posto così allora la foto a sinistra serve serve meglio ma se io devo dirvi guardate la cefalantera a longifoglia è fatta così forse la foto a destra funziona meglio quindi il problema non è cosa è vero e cosa è falso il problema è cosa sto cercando di dire cosa stiamo cercando di dire cosa ne pensi Elena sì ho risposto in ciò che non volevo interferire troppo con la mia voce no sì ho capito ho capito benissimo il concetto molto 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 interessante sì nella mia idea di fatto la verità era riprodurre quello che ho visto nella realtà però è vero che è vero quel discorso dell'occhio però appunto è una riproduzione anche quella cioè assolutamente però ho capito come è stato fatto il tuo lavoro quindi mi riguarderò il libro in un altro modo chiave di lettura allora torno alla chat e vediamo un attimo le comunque molto molto bello questo discorso molto interessante grazie Elena poi ti faccio un esempio che può essere divertente una domanda quanti anni hai? quindi più di mezzo secolo dai è sufficiente per il racconto che voglio fare allora salve Giada vediamo sei arrivata tardi ma mi pare che sei arrivata non troppo tardi allora hai chiesto aspetta un po' sono andato troppo avanti se le foto che le orchidee si trovano in libro sono di tutta la Sardegna o solo una zona no compro tutta la Sardegna però specifico tu vivi in Sardegna dal nome mi deve pensare che potrebbe essere dal comune sono sardissima da otto anni però vivo in Lombardia va bene ma torno sempre a casa centro sud nord il Campidano ah bene e allora vedrai un bel po' di roba le foto non ho voluto indicare una località perché non è fondamentale da una parte dall'altra e dall'altra in questo modo volevo incoraggiare anche la ricerca in una delle foto racconto che durante un mio workshop durante un'uscita per orchidee un'uscita fotografica uno dei partecipanti troppo in maniera inaspettata nell'estremo nord dell'isola in un bosco una cefalantera da amazonium che io le 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 i ritrovamenti di cui ho notizia non superano il centro dell'isola non risalvono il centro per cui è questo però anche per qualche altra specie quindi non ho dato se la gente le cerca e le trova tutto sommato può essere uno stimolo interessante non di non trovarsi davanti ah vabbè questa c'è sono nessuno ci sono la cerco non si sa mai però le specie sono fotografate in tutte le zone dell'isola dall'estremo nord all'estremo sud al centro diciamo ci sono zone aree dell'isola che sono molto molto ricche la la zona di lacconi di di meana di sarci d'ano ecco è una zona ricchissima ma anche nel sulcis nelle aree di nella zona attorno ad omus novas c'è un'altra area di grandissimo interesse e qua al nord ci sono le aree le pinette marittime vicino al mare la zona di barad di montedoria di distintino e di platamona che hanno riservato novità interessanti proprio negli ultimi anni a platamona sono state segnalate da poco specie delle di offris che erano conosciute soltanto sotto l'oristanese al sud di oristano sempre a platamona è stata ritrovata qualche anno fa e lo dico nel libro e cito anche la persona che la vide per la prima volta l'orchis balustris un nucleo di piante non ricco in difficoltà io quest'anno ho cercato ma non sono riuscito a trovarne spero che l'anno prossimo sia migliore però diciamo le zone interessanti sono molte alcune quelle che ho citato sono superlative ecco tutta la zona che ho citato prima il Sarcidano è ricchissima ma se qualcuno ha bisogno di essere guidato di avere qualche consiglio può anche scrivere posso essere più puntuale adesso devo essere per forza un po' discorsivo le posso chiedere di dov'è di Sassari dunque Franca chiede quante specie di orchidee ho fotografato in termine specie è un termine vago però penso che potremmo essere qua in Sardegna forse tra le 80 e le 100 non sono stato a dissezionarle tutte ecco va ad Alessandra c'è Alessandra mi chiede se bene cosa ha fatto direi che cosa ha fatto scattare la passione e la mia ricerca è basata sul fascino sulle nuove specie diciamo che la passione io non lo so ma mi è scattata che io forse avevo 8-9 anni giravo io da bambino proprio credo da aver raccolto nei miei giri con mia madre le prime orchidee e ho tentato di coltivarle nel terrazzo di casa stavo parlando di tanti 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 anni fa non so cosa però per quello e per altre specie animali una passione emersa e non mi ha mai più lasciato per cui la mia ricerca il mio gusto è basato da una parte sul fascino mi piace trovare stare lì a guardarle a fotografarle a girarci attorno o anche semplicemente a guardarle anche a non fotografarle a volte si fa anche così scoprire nuove specie è difficile scoprire qualcosa di nuovo oggi ma non è impossibile succede non mi muovo con quella con quello stimolo però qualche amico qua in Sardegna che mi è stato di grande aiuto nella realizzazione del libro col quale siamo usciti e lui si muove setacciando palmo per palmo il terreno guardando ogni singola piantina perché spera che sia quella nuova e diversa diciamo io ho un po' meno forte questo questo stimolo però si se capita è una sensazione molto forte Daniela chiede in quali mesi si concentra il periodo e la fioritura c'è variabilità in base alle località naturalmente la variabilità dipende dalle condizioni climatiche quindi nelle località del sud rispetto al nord le cose cambiano al sud la barlia l'imantoglossum è già fiorito da diverso tempo qui al nord ho fatto un giretto in questi giorni c'è giusto qualche piantina ma non sono molte ancora quelle fiorite lo stesso dipende dalle condizioni dall'altitudine le piante che sono fiorite qui adesso dicevo sono quelle ai bordi delle strade quelle nel sottobosco sono ancora diciamo in fase interlocutoria le piante che fioriscono a livello del mare le stesse specie a 400 500 metri d'altezza più riscono molto più tardi se perdiamo la fioritura di una specie qua in pianura possiamo sperare di recuperarla qualche settimana dopo in collina ecco questo è passato a quello poi si è persa per sempre si è persa per quell'anno il mese in cui si concentra diciamo che da febbraio da scusate da gennaio a linaio massima le ultime fioriture ce le abbiamo in luglio nelle zone più alte nel Sarcidano nelle zone più fresche dell'isola e sono per lo più quelle specie che crescono con le zampe a bagno sui bordi dei corsi d'acqua e poi c'è una ripresa fine settembre ottobre con l'ultima specie che fiorisce qua che la l'aspirante spiralis che fiorisce tra grosso modo ecco spanne metà settembre qualche giorno prima e io adesso non mi ricordo l'ultima quando l'ho vista quest'anno ottobre molto avanzato poi ci sono situazioni locali che possono essere leggermente alterate quindi c'è una certa variabilità diciamo che per se uno si pone l'obiettivo di fotografare tutte le specie dell'isola da una parte deve viaggiare parecchio e dall'altra non si deve fermare perché a partire da ecco io quando ho fatto il primo se non ricordo ci sono messo due anni e qualcosa è praticamente stato sempre in movimento con l'esperienza del primo questo è stato più semplice sono riuscito a farlo nonostante il lockdown che è stato problematico per certi versi sono riuscito a concluderlo in un anno poi Franca chiede se usi obiettivi macro e cavalletto e se usi anche il flash allora l'obiettivo che è stato utilizzato ciao Franca in quasi tutte le foto di questo libro è un di core micro 105 mm in qualche raro caso l'ho utilizzato duplicato quindi diventa un 210 il motivo è che mi consente di avere una profondità di campo sufficientemente ridotta da non avere a fuoco troppi elementi estranei sempre a proposito della macro fotografia lavorando con ottiche di questo tipo può essere necessario e in qualche caso l'ho fatto vediamo un po' aspetta cerco ecco ho messo ecco la foto che stavamo vedendo prima se riesco a trovarla la foto dell'apifera ecco ecco tornando a questo in qualche caso è necessario far ricorso a una tecnica particolare che è il focus taking il focus taking è una tecnica che ci permette di avere una profondità di campo mirata rispetto alle varie ai vari piani che sono presenti nella foto non entro troppo nel dettaglio Franca mi stai ascoltando sì sì ma so cos'è sai sai di che cosa parlo sì sì va bene per quanto per quanto riguarda il cavalletto in qualche caso è stato usato per le piante più alte quindi ho usato il cavalletto vediamo un po' per l'orchis purpurea per esempio che è una pianta abbastanza alta e quindi mi richiedeva dei punti di presa un po' particolari vediamo un po' se ce ne ho qua ecco questa è fatta col cavalletto questa no è talmente basso che è sufficiente usare una bin bag cioè una busta con dei fagioli sono del materiale diciamo morbido che sì sì una specie di cuscino morbido bravissimo questa è una pianta alta ripesa a lontano il cavalletto serve per quanto riguarda i flash il flash non l'ho usato quasi in nessuna circostanza se non per esempio in questo non lavoro ormai da molto con il flash in esterno utilizzo soprattutto diffusori per esempio in questo caso la pianta era in penombra sotto bosco la la luce è stata controllata attraverso dei pannelli riflettenti e così per diversi altri casi quindi diciamo che la luce del flash in esterno tende a diventare un po' dura a volte la uso ma preferisco utilizzare i pannelli riflettenti mentre invece utilizzo molto i flash in interno e quando dico l'interno voglio dire un secondo che ti faccio un esempio giusto un attimo per trovare un esempio che chiarisce il discorso che ho in mente ok ecco qui tempo fa feci un libro sui funghi si intitolava funghi colori e forme sottobosco in sardegna ecco in questi casi proprio perché mi è servito per creare determinate atmosfere per dare forza a determinate atmosfere ho lavorato molto col flash e col flash in studio molte di queste immagini sono realizzate in studio queste ovviamente no ma alcune immagini sono ecco realizzate in studio e e l'utilizzo del flash è fondamentale per creare la giusta atmosfera ok non so se sono riuscito a rendere grazie mille alla tua domanda grazie grazie vediamo un attimo c'è qui mi viene in mente che e vedete molte specie in primavera si ne troviamo ovviamente in molti altri periodi poi Elena d'accordo Carla si bisogna avere occhio ma direi che se hai un po' di pazienza l'occhio riesce a svilupparlo va bene ok mi sembra che più o meno abbiamo esaurito le 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 domande a questo punto c'è ancora qualcuna bruno c'è per esempio paolo che dice visto che usi photoshop cosa ne pensi di ecco adesso lo vediamo è molto vantaggioso se devi lavorare molte immagini rapidamente in sequenza ma se devi lavorare molto sulla stessa immagine photoshop diciamo ancora oggi non dico che lo sarà che sarà sempre così tra un po non ci sarà nell'uno e l'altro ma diciamo ancora oggi photoshop mi consente di gestire la post produzione in maniera più duttile più versatile proprio perché io lavoro molto con livelli e livelli di oggetti avanzati quindi diciamo che mi è più facile meno complesso lavorare in in questa maniera se vedi la struttura del del file ti rendi conto che ci sono molti molti elementi che nascono in in camera raw vengono trascinati sotto forma di oggetti avanzati e e su ognuno di questi poi intervengo 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 in maniera differente con lightroom faticherei un pochino sarebbero agile non so se ho risposto alla tua domanda paolo sì sì ok è quello che pensavo e ragionevole ma sì sì ti fanno i complimenti anche le figlie degli intervenuti che grazie wow alle foto che mostri e niente ma niente ci ha fatto venire voglia di venire in sardegna bruno cioè vabbè venite in sardegna ma potete anche cominciare a esercitarvi se quando volete venire quando trovate diciamo ritaglio di tempo per venire siete benvenuti e ben accetti andremo a farci qualche giro se avete qualche altra curiosità chiedo a tutti di intervenire attivare anche il video così tanto ci vediamo se vuoi togliere la condivisione così si aspetta un secondo volevo far vedere una cosa ad elena sessantamila foto letto bruno sì forse anche di più adesso gusto 2 io impazzisco con le mie 100 sì un po e vuoi far vedere elena no sì sì sono qua metto anche il video ecco il famoso metà secolo che dovevi spiegarci non so se conosci questa immagine probabilmente no è un'immagine lo dice la data del 68 scattata il 14 giugno al 68 un po' più tardi come in una fotografia la presenza di scritte diventa parte integrante dell'immagine della foto del significato del racconto e le scritte sono una bene evidente live questo ci dice che è un'immagine che è presente sulla copertina di una rivista che era tra le più importanti nel panorama dell'informazione statunitense ci mostra una figura il senatore robert kennedy fotografato nei giorni precedenti al giugno del 1968 quindi ci viene detto chi è non ci viene detto dove ma il luogo comunque ci viene raccontato mostrato questa immagine ha uno scopo il senatore robert kennedy per quelli che non che non lo sanno allora era il fratello del defunto presidente john kennedy e il suo ministro della difesa allora si candidava alla presidenza degli stati uniti e un'immagine che lo deve raccontare e lo deve raccontare attraverso la copertina della rivista life per inizio interno ce lo deve descrivere questa figura che sensazione vi dà vi dà una sensazione positiva sì è una figura che sta in qualche maniera intanto non ci guarda noi la stiamo vedendo quasi dietro le spalle come se la stessimo spiando la seguiamo è una figura che non tiene conto di noi non ci sta considerando non ha un ingaggio con noi corre sulla riva corre sulla spiaggia dà una sensazione di libertà dà una sensazione di amore per la natura è un uomo che una mattina con il suo cane vai si fa una corsa in spiaggia è proteso verso il domani perché la destra nelle immagini nel modo occidentale è la direzione del futuro quindi è uno che sta guardando avanti è un uomo a cui affidare il nostro futuro è sospeso non tocca a terra è sollevato ama gli animali questo è un altro elemento positivo ha il suo cane e quindi l'immagine ci racconta questa persona ed è un racconto veritiero di questa persona perché questo era il senatore Kennedy solo che quella mattina la situazione era questa mamma aiuto non è una situazione cattiva cioè vorrei spiegarla il senatore era andato a presenziare a un meeting sulla conservazione delle coste in questa zona non mi ricordo il diavolo fosse nel middle west naturalmente non c'era andato a soli era andato con la moglie con tutto il carico di giornalisti e di intervistatori questa pur non avendo la stessa carica emotiva della prima la stessa è una foto che isola stacca i nostri due soggetti il candidato che ha i candidati americani e i presidenti americani devono avere un cane una famiglia credibile qui non ci mostrano i suoi 13 figli ma c'erano tutti e quindi questa è la positività che ci viene mostrata la foto serve a questo è veritiera e allo stesso tempo non lo è la veridicità di un'informazione sta nella sua non in cioè risiede in che cosa in una miriade di dettagli che ci vengono detti e non detti alla fine la sintesi è forse l'elemento significativo cioè il fatto che tu mi stia mentendo o meno ma mentendo sulla concretezza delle cose non sul racconto della di una persona mi rende mi rende eh difficile eh credere a a una persona che nelle dichiarazioni si comporta in un modo e poi si fa fotografare in questo modo ma lui era così nella sua nelle sue storie e ovviamente in questa foto che l'ha voluto simboleggiare eh questo per quanto riguarda la cosa ora se noi dobbiamo eh fare un ritratto a una persona e io ho fatto dei ritratti a delle orchidee quella persona si aspetta di essere raccontata rappresentata secondo la sua luce migliore per cui se io lo rappresento eh in una eh cantiere in rovina casualmente non volutamente perché stava passando lì lui potrebbe anche non essere soddisfatto le scelte che fa il fotografo sono quelle quindi di staccare e rendere essenziale il messaggio che vuole eh eh trasmettere quindi diciamo tra verità e non verità ci sono diversi margini e diversi confini dopodiché giusto per divertirvi e farvi ridere un po' questa questa è triste la la presento spesso ma non è eh non è eh fondamentale però ecco questa è una bugia conoscete questa foto non l'avete mai vista io credo che vi sia capitato di vederla nei libri di scuola anche in qualche film in qualche cosa è un gruppo di marines che sull'isola di Vojima piantano la battaglia la bandiera americana statunitese su una su una su una collina che è stata appena conquistata ve la ricordate come foto e questa foto viene utilizzata eh dal governo americano assieme a questi e sono uno due tre quattro cinque marines eh a cui viene fatto fare il giro degli Stati Uniti per promuovere la raccolta di fondi per la sostenere il conflitto dopo la lana da bombardamento superato ora è una bella foto è molto efficace no è molto dinamica e carica dentro c'è cooperatività c'è c'è sforzo c'è unione ci sono tutti le 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 gli elementi che eh trasformano un'immagine banale in una immagine forte eroica convincente però diciamo che posso dire ecco la vera foto fatta subito dopo la presa della collina era questa ecco questa è veridica mostra una folla di svaccati che sopravvissuti alle pallottole dei giapponesi ha preso la collina ci ha piantato una bandiera si fa una si fa la foto e poi torna giù solo che l'america non poteva andare a riscuotere cassa dai suoi contribuenti con questa foto quindi il giorno dopo sono stati trovati cinque marini si è stata gli è stata messa in mano questa bandiera sono stati riportati su e gli è stato detto adesso facciamo una foto come si deve è stata ok diciamo che ecco il termine vero veridico comincia ad assumere molti significati vero ecco questa è una foto credibile ma non vera eppure veridica penso di averti dato qualche spunto di riflessione vero ah sì parecchi direi e anche una lezione di fotografia tra l'altro di filosofia e fotografia sì e un po' di botanica grazie allora tolgo la condivisione così eccoci recuperiamo ripetiamo appunto dove poterti trovare bruno ci siamo allora potete trovarmi o su facebook oppure se avete messo la la mail in chat l'ho inserita si in chat l'avete messo comunque il mio indirizzo è bruno chiocciola antasphoto.net se lo perdete penso che se scrivete a a francesca sarà lieta di 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 fornirvelo oppure cercate un nuovo annunzio su social su facebook e mi trovate in realtà anche se mi cercate su google doveste riuscire a recarmi senza troppi tentativi poi nel caso con appunto riferimento all'associazione dove possiamo indicare i tuoi recapiti e come trovare il libro perfetto sì bene ti ringraziamo e casomai ci aggiorniamo al prossimo libro eh sì ben cantiere qualcosa certamente vi ringrazio grazie mille ciao a presto grazie a lei saluto a tutti grazie a tutti grazie ciao 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 un attimino qui così ci salutiamo come si deve bellissime foto comunque bellissima spiegazione fermo